Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Andreas Müller è un padre affettuoso e difende con le unghie e con i denti le figlie Ginevra e Penelope, avute dalla compagna e coreografa Veronica Peparini. Il ballerino è diventato padre per la prima volta lo scorso marzo, quando sono nate le due gemelline. In questi mesi, Andreas e Veronica hanno condiviso alcuni momenti bellissimi insieme alle piccole sui social. Non tutti gli utenti però hanno fatto apprezzamenti. Non è la prima volta, infatti, che Andreas Müller legge dei commenti orribili rivolti alle figlie, ma questa volta non ha taciuto di fronte al gesto di odio decisamente inopportuno. Nel breve filmato si vede la faccia di una delle piccole imbronciata e quello sarebbe la metaforica risposta a chi ha trovato il coraggio di scrivere sotto alle foto delle bimbe che sono bruttine. Questa volta, Andreas Müller ha sbottato contro gli haters che sono tornati all'attacco. Due cose sono certe, che siete dei coglioni se continuate a dire orrende alle mie figlie, ma a qualsiasi neonato in generale, perché non è sincerità bensì mancanza di sensibilità e quindi personalmente mi fate schifo. Si legge tra le storie del ballerino. L'amore di Andreas Müller per le figlie è immenso e lo aveva spiegato lui stesso durante l'ultima intervista a Verissimo, quando lui e Veronica avevano presentato le neonate.